Rossella se partire da quel splendido gol è a dir poco poco per poter raggiudicare questa ottima prestazione in questa splendida finale questa grande vittoria da parte della tua squadra sì 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 secondo me abbiamo fatto una buona partita tutta la squadra anche chi è subentrato comunque sia siamo un gruppo di amici abbiamo cercato di giocare tutti secondo me abbiamo fatto abbastanza bene e l'unica cosa il gol è stato bello ha messo una gran palla a pigna il mio capitano volevo chiedere forse anche scusa un po' alla squadra avversaria perché mi è scappato un gesto in preta all'euforia del bel gol però non era assolutamente offensivo e niente questo qua in questa vittoria qual è stata la forza del gruppo qual è stato però un segreto sapevate che questa era una squadra che vi poteva mettere in difficoltà ma voi non gli avete mai dato modo di ragionare sì sì diciamo che forse avevano qualche elemento che comunque giocava viene dal mondo del calcio a 5 quindi per noi era un po' più difficile visto che noi siamo tutti del mondo del calcio a 11 però alla fine siamo riusciti a giocare bene poi ti ripeto ci conosciamo tutti da parecchio tempo che giochiamo insieme siamo un bel gruppetto quindi bene bene così Morichini arriva questa bella vittoria frutto anche della sprestazione ottima della squadra ma soprattutto anche in importa che hai negato praticamente l'impossibile mi sono riscattato dell'anno scorso perché l'anno scorso sono stato appena ai gironi quindi quest'anno sono contento che con questa squadra siamo riscattati che è stata una squadra bella preparata di giocatori con valori e sono contento Bella la prestazione dei singoli anche del collettivo nessuno ha sfigurato tu praticamente hai messo le tue manoni e quando c'è stato il momento di intervenire ti sei fatto trovare presente? Sì diciamo che mi sono fatto trovare presente però mi rimprovero qualche intervento perché penso che potevo fare qualcosa in più però sono contento per la squadra sono contento per me e per tutti insomma Bene a questo punto c'è il momento della premiazione e potrebbe arrivare anche qualche sorpresa ma a questo punto lasciamola così com'è Non mi interessa è arrivata la sorpresa per la squadra va bene così sono contento Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti